Eeeh, allora Mandarino hai ancora dei punti te, abilità? Sì, due In teoria non c'è una passiva che ti aumenta la vita Ricordavo ci fosse Ah, eccola qua Però mi servono 190 monete, bacca boia Afterbirth Plus è un upgrade gratuito? No, no, sarà a pagamento Eeeh Incursione, carica del toro Col colpo forte La carica del toro la sto già mettendo a coso? Perché tempo di apprendimento un giorno, dice? Cioè, quindi mi dite che Peppe domani è pronto? O anche lui se la faccio adesso, carica del toro? Aumenta il raggio di attacchi di carica Aumenta il raggio di attacchi di imboscata No, no, carica del toro Perché Dingle? Cioè, sono contenuti in più a pelo, cioè proprio Sono contenuti in più a pioggia Dovresti solo che ringraziarlo Ok E là Entrambe hanno preso carica del toro Ottimo E abbiamo una richiesta, signor delle ombre Che possiamo soddisfare? Possiamo soddisfare alla grande Ottimo Allora 75 kg Me ne sono 124 Io ce li ho, direi Sì, ce li ho alla grande Anzi Fai che ti do tutte le malapietre Così mi paghi anche Non so se è una buona idea Cioè, ne avrei tipo 40 in più Mi dai 200 monete in più Quindi posso potenziare Un sacco di gente, in effetti No, Matte L'ho pagato 15 L'ho preso in scontissimo, Matte E secondo te pago 40 euro E ciao, eh Dai Così paghià Così ci fanno più roba Bene Torniamo all'accampamento Tanto avevamo sempre un sacco di giorni Per fare la roba Adesso sia Peppe Che Coso Sarà Sono potenziati Eh Sì, vedi Qua si possono comprare i personaggi Gli eroi Cose varie Allora Abbiamo anche delle spade a soldate Ho visto Che costano veramente Troppo Anche quando avrò i soldi Costeranno troppo E Allora Fatemi pensare Perché potrei rimettere Peppe Anzi Togli il potrei Rimetterei Peppe Però rimettendo Peppe Dovrei togliere Oh, grazie Orange Dovrei togliere un seguace Perché se no saremmo Uno, due Saremmo in cinque No, ma in cinque Forse è ancora gestibile la banda Dai Sì, dai In cinque ci sta Abbiamo potenziamenti da spendere Quindi un punticino qua Un punticino in allerta Che se non sbaglio Esatto Aumenta in iniziativa Questa aumenta E danni da incantesimo Che non mi serve Il senso di sordimento Le chance di stati mentali Leadership Aumenta il morale Io aumenterei sempre allerta E aumentiamo abilità armi Sì, perché il mutante Parte con un sacco di abilità balistica Il fatto è che però Può usare solo l'arco L'arco lungo Se non sbaglio L'arco è l'arco corto Neanche l'arco lungo Per tiri E Aumentiamo atti allerta anche a te E a cumino Finalmente possiamo Dato che agilità Non ci dare più a niente Perché schivare Non è importante Possiamo aumentargli la forza Così inizio a fare un po' più male Con quell'arma a una mano Alleluia E voi siete tutti a posto Ok Ora ci facciamo L'ultima campagna L'ultimo combattimento E poi chiudiamo la live Ci vediamo stasera Sistema A caso nell'area Non esiste Non esiste A caso nell'area Entrambe a caso nell'area Devo usare il ricognitore Ma però no Però letale no Devo usare un altro Ok Speriamo che questa sia decente Ciascuna banda si schiera a un arco Perfetto Vai Ho potuto spendere un sacco di soldi Ma va bene Lancia e schiera Come si chiama il video Si chiama Su canale di Norotus Cerca Dancing Norotus Se lo trovi No no minchia Non è grosso ragazzi Ti dà un pattone Ti toglie Vieni Allora L'ultimo combattimento Vediamo di non finirlo malissimo Sarebbe tanto bello Siamo contro Le sorelle di Sigmar Di nuovo Ok La mala pietra Ne abbiamo un pochino qui Un pochino lì Nel nostro obiettivo Sarebbe raccoglierne Tanta però Frega cazzi Ah è la stessa mappa di prima Sapete che non mi era mai successo Non mi era mai successo Di beccare due volte La stessa mappa E Sopporto di fila Strano Cumino Che in teoria è quello più lento Posizionarlo un po' più avanti Mi va bene Giovedì Matte Non credo Io proverei per domenica Tu buttalo sul gruppo Vediamo Allora Ah qua ci sono dei rifiuti Quindi Mi voglio lanciare subito laggiù Quindi non di qua Ah qua c'è il carro E intanto Preghierina al carro Così ci potenziamo Ci potenziamo Sì 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 Ma non rifatti È un gigante buono Però Se ti fai dare un pattone Secondo me ti fa male Allora Qui non c'è niente Qui non c'è niente E qui non c'è niente Quindi è piano di sopra Ok Buona sapersi Saliamo Di qui si può salire ancora Eccoti qua Provato Provato Sì Scrivilo sul gruppo Martin Nel senso Corone Ma peccato Speravo qualcosa di Un'arma blu almeno Ma no Ma no Una persona Venì gentilissima Ma game members 2015 Dove eravate? Sembrava stasera il 500 È Villa Bombrini È una Cioè E dove saremo anche quest'anno Allora Ah abbiamo una malapietra Dietro di noi Di qua Ok Andiamo a vedere Sta minchia di malapietra Dov'è? Già Dov'è? Esattamente come sta Dov'è la malapietra? Perché Qui non c'è Ah Questa dici Eba Ebbe Ma no ragazzi Avete frainteso completamente Dicevo Non è grosso Quindi se ti dà un pattone Ti fa male Ma non lo darebbe mai La persona più gentile del mondo Che computer hai? Eeeh Ci metto 20 anni a dirlo Cioè Non so Mi diciamo qualcosa di più specifico Se me ne ricordo Te le dico volentieri Allora Andiamo avanti E posizioniamo anche Peppe No Dalla parte sbagliata Lo sto posizionando Dalla parte molto sbagliata No Peppe Sì Quello è vero Quello è vero Dingo Bravo Matte Allora Ti mettiamo qua in imboscata Come As usual As usual Come al solito La prima risposta Non mi piace Matte Allora Adesso sarà sicuramente Esatto Ananas e poi alla fine Abbiamo La stanza è giusta? Devo andare di qua? Cioè sì Ma magari sarebbe meglio Andare di qua Per riunirmi con gli altri Sì c'è Peppe qua Peppe Aspettami Peppe Ovviamente Ovviamente Essendo Essendo Le sigmariti Sono lente In culo Come iniziativa Per fortuna Però il mio è più lento Eeeh No Non posso Non posso Non posso As usual Esatto Orange As usual So Cioè potete Una GTX 960 Cioè forse Può interessare Quello Una RAM di 8GB Poi poco Non mi intendo un cazzo Quindi basta Mi fermo Ok Dai è forte Dove devo andare? Di qua Ok di qua siamo tornati Ok Allora Magister Potenzia No carotino Devi potenziare Peppe Ok Vai Peppe Olè No 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 Ok Bene Nessuna maledizione Tutto bene E ti metti in schivata Qui dietro Va bene Ciao Matte Allora Manda Come al solito Che è il nostro Areta da sfondamento Qualche Ok Nessuna Sigmarita Avvistata Perfetto Però sappiamo Che sono laggiù Di qualche parte E quindi Ci rimettiamo qua Come eravamo prima Anche perché questi Non avranno Unità ranged Che ricordo Le Sigmariti Non hanno nessuna Unità che usarmi a distanza Hanno qualche incantesimo Però Diciamo che di solito Comunque ti vengono a picchiare In faccia Sono gentili Sigmariti Sono sportive Ma direi di no Michele Direi di no Comunque è zetto Please Please è zetto Più english di così As usual Oh oh È parsa per un attimo Dove Where Laggiù Ok Laggiù Ah c'è anche loro Giusinde Tassosson Ma che bei nomi Che hanno Ma che bei nomi Giusinde Oddio Sarebbe stata presa pericolo Da tutti Per cui si è venuta La suora Anzi Mi scusi Una sorella Sigmarita Ah eccola là Salve Giusinde O chi per lei Patum Tutti è più facile Che gli scaven Eh Sì Più o meno Tranne quando Quando ti bullshitta Forte Oh Eccole qua Ah no Quella è Giusinde L'altra era un altro nemico Ah non è Ah no ok Giusinde è un loro eroe Non è il leader Il leader non c'è ancora Per fortuna che gli ha Non è proprio intelligentissima A volte Cioè Dovrebbe andare avanti A Soprattutto con le Sigmarite Che si potenziano Quando sono vicini All'altra con una magia Dovrebbe andare Compatto avanti Soprattutto quando iniziano tutti insieme Come la cedrata Esatto E E invece no Invece stanno fermi Come degli imbecilli Vanno avanti una alla volta Grazie Mi fate un favore Però Giusinde As usual My friends Esatto Esatto Allora Carottino Carottino mi fai Un bel potenziamento Su Peppe Ole Non esplodere Grazie E anche un bel potenziamento Su Manda Sperando sempre Di non esplodere Ok Almeno l'incantesimo è entrato Ti prego Ti prego Ti prego Ok Tutto funziona Ti metto l'imboscata Ma non servirà Perché metto gli altri più avanti Allora Va bene Andiamo qui E ci mettiamo in imboscata A cazzo durissimo Vai Manda Tanto Chi parte dei due Gli facciamo comunque danni dalla vita Perché entrambe Vanno in distruzione Sperando che vengano in qua Ovviamente E sperando che non facciano gli stronzi Come al solito E E mi sorpassino l'imboscata Perché sono belli Ok Eccola lì l'altra Salve Chi parte? Vai Peppe 70 danni Bravo Peppe Cometa di Sigmar Perché? Perché ha cumino soprattutto 18 danni Ok Fervore E loro hanno una tema di Zanch Praticamente il fervore Però quante cazzo volte attacchi? Ah vero Sei un eroe Ti faccio un botto di danni Perché ho anche carica scandinava Ti prego Prendila Grande Peppe Grande Peppe Stasera alle 21 C'è Oblivion Esatto Adesso Questo è l'ultimo combattimento Poi basta Perché devo andare a mangiare E Allora Già che ci siamo Supportiamo con Con te Tech Chi sei te scusami Ananas ok Ok Lei è mancata Però mi fai fare C'è di solitudine Stasera alle 21 Michele Alle 21 è l'orario Non è il gioco Così Tu vai dritta Dimmi che vai dritta Sì Vai manda 70 68 danni Bravo manda Mi attacchi Va bene Posso reagire? Ah sì che posso reagire Però l'ho mancata Di pochissimo Di pochissimo Uh bravo manda No bravo Cazzo Ha mancato Lei male Ok ok Dai 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 È iniziata alla grande Forza Eh beh Cazzo sono i loro eroi questi Non c'è il leader ancora Pensavo che sta qua fosse il leader Pensavo con le corazzatissime Sono un leader E invece no Eh ma Pollaccio Le abbiamo in mente Per qualcosa di molto molto figo Che però Dobbiamo fare più avanti Perché ce le abbiamo Non è che le butto via Anzi Come tutte le canzoni anche di Ronald Sono tutte cose che Perché non danno in più Esatto Sono tutte cose che Abbiamo presente Che avete fatto per noi E ci tengo poi a farle Dovresti poter attaccare due volte Perché è una mano sola Giusto? Esatto E almeno un colpo L'hai dato Bravissimo Però stiamo so troppo Quindi non puoi Ok Allora Carotino Armi di istruzione Su manda Va Il prossimo legotoro Che quando siamo particolarmente ispirati Semplicemente Armi di istruzione E anche a Peppe Speriamo Ah L'hai fallita No Non ne faccio un'altra Anche perché l'anatema Stava Lo vedevo galoppante Ah Quella è quasi morta Se non sbaglio No? Sì Mi pare Quella sia quasi morta Va bene Ciao Michele Allora Ah Loro leader È molto vicino Loro leader In effetti A te 50 di vita E te 72 Quindi diamo una mano A questi Ok Uh Critico Estordimento Che culo Ammetto Che culo Olè Ti vedo Una biografia di Peppe Manda e Carotino Allora Ah Ma Mandarino Era su questa qua Già indebolita Morente Ok No Allora basta un'attacco normale Olè Andate giù La missione secondaria Eh Ah è vero Corsa le malapietre Allora non posso farla Tac Colpo forte Cacciò Dai 84% Va bene Comunque il leader è lì dietro Ho paura per quello io Ok Il leader No è uno degli ultimi a gire Quindi questa qua dovrebbe morire prima Dai 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 Però questa qua dovrà fare anche un check di solitudine Però magari Peppe l'asfalta prima No Non ce la fa Peppe Vabbè È quasi morta almeno Dai Adesso Check su solitudine Signorina Perché no? Perché non check su solitudine Signorina? È gangbangata da tre persone Perché non fa check su solitudine? Vabbè Con sei di vita sei solo che hai un insulto Muori Grazie Allora Vediamo cos'hai come bottino Un martello Ce lo prendiamo E adesso quasi quasi vado a vedere C'è anche l'altra Come bottino Leia Un martello E un pugnale I Tommy non mi servono a niente Come ho già detto Il loro leader Che l'ho visto nella mappa Dov'è scusate? Ah è là L'isellot Vole Che bel nome Che bel nome Bel Cioè Semplice tra l'altro Da ricordare Allora Eccola lì L'isellot Preghiera di rapidità Quindi farai tipo 50 km Immagino Credo eh Ti metti l'imboscata là? Sì Non lo so Non so la tattica che stanno usando Dove essere sincero Mi sembra una minchiata Come tattica però Eeeh Niente Cummino Ti metti qua in imboscata Vai Ole Sì Le sigmarite Penso che siano tutte lesbiche Immagino No Forse c'è proprio scritto Su Warhammer Se non sbaglio Ciao Vale Allora Mmm Ok Là c'è la leader Perfetto Allora Come al solito Ha una tema di Eeeh Arme di distruzione Mandarino Carotino Pepe Pepe non sta Va bene Mandarino Potenziamolo Ok Funziona Dimmi che non parte l'anatema Che mi fa male Non parte l'anatema Eeeh Niente Ci mettiamo in imboscata qua C'è Uh C'è un sacco di malapietra laggiù Vabbè Imboscata Yeah In tempo per la fine Dell'ultima missione Tra l'altro Non per l'ultima Intera Mandatelo Puoi prendere un attacco Nei denti? Ah no Oh no 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 Un amico Fumi disorientanti Che mi potenziano Cos'è? Scusa Fumi disorientanti Chance di colpo a distanza Peccato che non c'è Non ho armi a distanza E non li potrei neanche usare Perché è megalomane Giustamente Ok Ok Allora Dato che il primo colpo Potresti schivarlo Ti faccio Prima l'attacco normale Ah non ha timato schivata? Ok Aia Un attacco E ora ti faccio il colpo forte 63-69 Vai Uh 63 Il minimo Però comunque Male duro Ok Ok Toccano loro Sorella base Spero non faccia male Cioè spero non si faccia vedere Tra l'altro Perché sì Il momento che muore il leader Hanno troppo poco morale Per poter resistere Peppe Peppe non stai bene Però Penso che non rifiuteresti mai Dar due legnate nei denti A una sigmarita Bravo Peppe Ottimo Abbiamo vinto Purtroppo non è una vittoria totale Che L'ho fatta bene in questa live Di vittoria totale In effetti Però si ritireranno duro Neanche di tanto Devo ammettere Si ritirano Quasi sicuramente Però Han tenuto Bravi 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 Han tenuto duro Complimenti Vedo se riesco a prendere La malapietra Sì che ci riesco Oh bene Cumulo di malapietra Mi servono Mi servono tanto Le malapietre adesso Non fanno l'orale Le medie Eh guarda Continuano Prima Prima non facevano la cosa Alle Alle elementari Penso deve essere stato Io l'ultima classe E ritirata fallimento Ok quindi vanno via Yes E vanno a vincere di nuovo Allegri vegani E vai Vittoria sul campo Nessun obiettivo extra Sì lo so Ma perché quello di raccogliere Il loro idolo E portarlo sul tuo carro Quando soprattutto Quando loro sono lì È brutto Non è da fare Perché rischi la morte forte Un avanzamento mentale Ok Mandarino invece si prende Un avanzamento fisico Ottimo Peppe Un avanzamento fisico Cumino No mi sa che ci manca Ah un avanzamento fisico anche a te Ananas Credo niente Ah no Un avanzamento marziale Oh bene Cosa abbiamo trovato Ah no Questa è l'esperienza di classe Scusate Un elmo Una balestra Tre fermetti di ammala pietra Ventre corono Due martelli Un cumulo Un pugnale o martello Ok bene 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 Ottimo Paghiamoli tutti Sì Ok Uno la perdi sempre Poi vittorie Sì in effetti Come l'altro giorno Però scusate Io mi ricordo che I I mutanti Ah A livello 4 Riceve un'altra mutazione Mandarino Speriamo che Non lo Modifichi troppo Cioè magari Se è qualcosa che gli aumenta La resistenza alla testa Perché c'è Non aumentiamo forza Aumentiamo giusto Le stat a tutti E poi Ci salutiamo Ok Mettiamo Abilitarmi Perfetto Ok Mettiamo di intelligenza Te vacca boia Che Ok Bene Anzi Passiamo di giorno Ah non arriva La cosa Pensavo arrivasse Niente 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 Va bene Quindi Anche per questa puntata È tutto Ci vediamo stasera Alle 21 Con la video oblivion E per quelli che vedranno La replica su youtube Ci vediamo Alla prossima Ciao Alla prossima